I carabinieri della compagnia di Taormina, al termine di una meticolosa attività investigativa avviata subito dopo aver ricevuto la denuncia di un furto in appartamento di ingente valore, hanno sottoposto a fermo i presunti responsabili un uomo di origine marocchina e una donna polacca, entrambi già noti alle forze dell'ordine. In particolare la titolare di un esercizio di ristorazione del centro storico di Taormina si era presentata presso i carabinieri denunciando di aver subito un furto presso la propria abitazione nel corso del quale le erano stati asportati denaro contante e orologi di lusso del valore di circa 20.000 euro. I carabinieri del nucleo operativo hanno subito avviato le indagini effettuando il sopralluogo presso l'abitazione per verificare le modalità con le quali i ladri avevano fatto ingresso all'interno dell'edificio e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona. Proprio dalle immagini registrate gli uomini dell'arma sono riusciti a identificare gli autori del delitto e a mettersi sulle loro tracce. In poche ore, dopo un'accurata attività di ricerca, l'uomo e la donna ritenuti responsabili dell'azione criminosa sono stati rintracciati presso una struttura ricettiva a quattro stelle di Taormina intenti a consumare la prima colazione. I due, che di recente avevano lavorato anche alle dipendenze della vittima come camerieri e lei anche come babysitter, sono stati trovati in possesso di circa 8.000 euro in contanti e di qualche dose di cocaina e marijuana per uso personale. La donna, messa davanti all'evidenza dei fatti, ha ammesso la perpetrazione del furto in concorso con il giovane marocchino, negando inizialmente il furto degli orologi di pregio. Ciononostante, le ricerche della refurtiva da parte dei carabinieri sono proseguite e hanno consentito di recuperare anche i quattro orologi rubati, tra cui un Rolex e un Cartier. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di documentare le diverse fasi dell'azione criminosa, inclusa quella del sopralluogo, e di accertare che i due avevano già speso circa 3.000 euro del bottino in cena in ristoranti di lusso del comprensorio taorminese, hotel a quattro stelle e in acquisto di costosi cellulari. I due sono stati associati presso la casa circondariale di Messina Gazzi al termine dell'udienza di convalida. Il giudice ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per l'uomo e quella dei domiciliari per la donna.